E questo è quello che uno deve capire, che tutto può essere solo piaciuto se c'è purezza. Questa purezza viene con noi quando siamo nati. Non siamo peccatori quando siamo bambini. Siamo innocenti quando siamo bambini. Ma come cresciamo con la nostra propria comprensione, cerchiamo di sviluppare un tipo di conscienza che si trattano in cose sbagliate. Attraverso la nostra ricerca, attraverso la nostra intelligenza, noi rimaniamo impigliati in qualcosa che ci fa andare nel peccato. Ciò che noi pensiamo sia la libertà non ha nessuna guida, nessuna valutazione assoluta. Ciò che noi pensiamo sia la libertà non ha nessuna guida. delle linee direttive ben precise. E non c'è una maniera assoluta per raggiungerla. Noi viviamo nel mondo della relatività. E questa è la consapevolezza umana stessa. Ora sono qui per darvi un messaggio che avete tutte le possibilità di diventare l'assoluto. e io sono qui oggi per darvi un messaggio e cioè che voi avete la possibilità di diventare l'assoluto. Potete seguire qualsiasi filosofia, qualsiasi religione, qualsiasi cosa che condizioni la vostra mente, ma non potete non potete riuscire dalle debolezze. Voi potrete seguire qualsiasi tipo di religione, qualsiasi tipo di filosofia, qualsiasi condizionamento, ma non potete liberarvi dalle debolezze. non potete fare qualsiasi cosa, ma non è in noi che siamo veri, che siamo gentili, che siamo virtuosi. Ora vedete questi ragazzi qui, e ci sono molti come questi, milioni e milioni di loro, in tutto il mondo. Nella loro ricerca, essi hanno fatto degli errori. Si hanno preso le droghe e molti pervergioni nella vita. magari alla droga o altri tipi di cose sbagliate nella vita. I loro genitori si sentivano anche perduti. E non riuscivano a liberarsi, non erano liberi dalle loro abitudini. Non avevano possibilità di liberarsi da ciò che avevano assimilato, da cui erano abituati. in realtà la moderna generazione è una generazione molto debole. si è presa schiava da così tante cose, da tanti condizionamenti, da tanta pubblicità che ci viene a noi dall'esterno. E così con tutto ciò è difficile capire cosa è bene e cosa è male. Qualcuno dice che prendendo droga si può ascendere in un altro mondo, in un mondo spirituale. e così la gente prova la droga. Qualcuno dice che se ci diamo alla cultura alternativa e ci mettiamo a vivere in maniera diversa da come siamo abituati, possiamo raggiungere delle grandi altezze. ma da un altro condizionamento, da un altro condizionamento, da un altro condizionamento. Questa gente non è per niente libera. Oggi vediamo che la gente è sempre sotto la pressione di desideri di ogni tipo, di avidità. Anche se vogliono venire fuori da tutto questo, non ci riescono. Perché essi sono deboli e non hanno questa libertà dentro di loro. E qualche volta queste persone vengono così, attraverso il loro ego dicono, ma no, noi stiamo facendo bene, ciò che facciamo è giusto. Per esempio, tipo Hitler che pensava che stava facendo una cosa molto grande e che sarebbe stata per tutta l'umanità. Ma adesso, naturalmente, ci accorgiamo di quanto era orribile nel suo comportamento inumano. Io non incolpo i giovani se oggi sono perduti. Io non incolpo i giovani se oggi sono perduti. Ora ne dico niente contro i loro genitori, perché anche loro non sanno cosa fare. Parliamo dei valori che sono andati perduti, che la nostra generazione è perduta, ma qual è la ragazza che dovremmo trovare? Che cosa abbiamo noi in realtà? Noi siamo nati in un tempo, in una situazione molto precaria. Questo è un periodo molto speciale, come Mohammed Sahab ha descritto come Kayama, cioè il tempo di Resurrezione. E nella Bibbia è scritto che ci sarà l'ultimo giudizio. Mohammed Sahab ha detto che quando il tempo della Resurrezione verrà, le vostre mani parleranno. e ha detto che le vostre mani daranno testimonianza per voi o contro di voi. È bene dire che non esiste Dio, ma non è per niente scientifico. È semplicemente un'affermazione senza alcuna base. perché trovi che ci sono persone che parlano di Dio e che non sono guidando una buona vita, questo non significa che Dio non esiste. Ora è venuto il tempo di parlare, di provare l'esistenza di Dio. Nel nostro sistema nervoso centrale, sulla punta delle nostre dita, noi possiamo avvertire, possiamo percepire il potere onnipervadente di Dio. ed è così sottili. È questo che dobbiamo diventare. È questo che dobbiamo diventare. Non è che dobbiamo rinunciare a niente. non è che dobbiamo stare ad ascoltare dei sermoni o delle conferenze. Non dobbiamo fare nessun tipo di esercizio o altri tipi di condizionamenti. Perché questi tempi sono preziosi. Ma le persone non capiscono che un tempo rivoluzionario ha venuto per il mondo del mondo. C'è la più grande rivoluzione. sta avvenendo la più grande rivoluzione. Grazie.